ehi penso che tu abbia saputo di susi già di quel tizio già dell'altro tizio lo so e che hanno lo so fatto sesso dimmi qualcosa che non so il frutto della cicerchia è chiamato pisello odoroso c'è anche una pianta chiamata erba pesce questo lo so dimmi qualcosa che non so ecco le banane e gli umani condividono al 50% lo stesso dna è così questo lo so den ti prego dimmi qualcosa che non so potresti ingoiare fino a otto ragni ogni notte se lo volessi dimmi qualcosa che non so un gruppo di carlini è detto caso dimmi qualcosa che non so no ma andiamo dimmelo è legale mangiare uova dimmi qualcosa che non so i labirinti sono noiosi in realtà questo lo sapevo già il primo roast beef risale ai tempi di carlo magno esistono almeno cinque persone al mondo chiamate steve dimmi qualcosa che non so dimmi qualcosa che non so dimmi ne Bob e dei cammelli contengono cuccioli di cammello lo so dimmi Matthew Perry non ha mai visto un cane in vita sua la luna è un invenzione liberale Dimmi qualcosa che non so. Ti prego Tom, credo che tu sappia tutto ormai. Non ancora ti sbagli. No, 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 ti prego. Dan mi dispiace tanto, io volevo solo sapere ogni cosa, scusa per questa esperienza dolorosa. Ah, sei un poeta e non lo sapevi. Già, io non lo sapevo. Tom, ma che cosa ti sta succedendo? Ora conosco ogni cosa, so tutto quanto riguardo lo spazio, il tempo, l'universo, persino l'esistenza stessa. Io sono onnisciente. Quindi ora sei una specie di dio? Sì, credo di sì. Oh, bello. Lo so. Quindi, quale miracolo farai ora, signor dio? Questo. Ehi, Susi! Che vuoi? Ehi là, io sono Aldo dei Finder Osebiff. Per nuovi video iscrivetevi al canale, al canale originale, e date un'occhiata alla versione alternativa di un universo parallelo chiamato Shadow Grimm, che è Dan in questo video. E io sono Dan nel suo. Yey! Ciao, ciao.